Avete trovato la forza in un momento in cui la mente fredda non si riuscirebbe? Sì, per sdrammatizzare mi ricordo una battuta di dolore, è stato il coraggio della paura, diceva lui, e quindi probabilmente la gravità della circostanza ci ha portato un pochino ad agire, a bloccare questa situazione che diventava impegnativa. Ma lui ha detto qualcosa prima di uscire l'arma, prima di cominciare a provare a sparare? Sì, in teoria io non ricordo esattamente data la circostanza, però inveiva un po' contro tutti, perché diceva che viveva una situazione di disagio e che ce l'avrebbe fatta pagare a tutti per questo. Però che voleva chiudere la porta a chiave per tenervi tutti dentro? Sì, diciamo che a me il campanello d'allarme è scattato in quel momento, perché io non sono del luogo e quindi non conoscevo il personaggio, pensando e magari non immaginavo che avesse queste idee, l'ha scattato l'allarme quando lui è andato a chiudere la porta dicendo che ce l'avrebbe fatta pagare. Il fucile ce l'aveva in mano già? Sì, sì, puntato contro di noi. Io credo che nessuno si potesse aspettare una cosa del genere, anche perché conoscendo l'individuo, sì, come diceva lei, un po' bizzarro, però tutto uno può pensare ma che non si arrivi proprio a tanto. Il problema secondo me nasce dal discorso che lui non percepisce la pensione, perché questo discorso io sono amministratore da dieci anni e l'ha sempre posto questo problema, però non è un fatto che dipende dall'amministrazione o dal governo centrale. Lui è entrato qua come LSU e quindi paga direttamente l'Inps, però non hanno la copertura assicurativa dal punto di vista della pensione, è quella là. Lui evidentemente chissà per la testa cosa gli sarà passato e oggi si è arrivato a questo epilogo, fortunatamente si è risolto in maniera, non è successo niente diciamo di irreparabile.